Noi contiamo, ti dico la verità, contiamo entro la fine dell'anno, grosso modo, salvo che non succedano ulteriori problematiche legate al Covid o a altre vicende, purtroppo si vive in un mondo difficile in questo momento, noi pensiamo che questi 22 appartamenti possano essere messi a disposizione dei cittadini pratesi.